E vabbè, guarda, incazziamoci anche quando c'è la Champions, trasferta dell'Inter al Liverpool. Ora, io da tifoso neutrale, ovviamente le italiane in Champions, poi le tifo tutte, devo dire che c'era questa sensazione che comunque l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata contro il Liverpool, insomma, fosse un minimo possibile ed effettivamente l'Inter, passato in vantaggio e continuando a giocare con un pressing ultra-offensivo, ad un certo punto, palla contesa, subito dopo il gol, e non è che dici all'ottantesimo il tutto per tutto sangue gli occhi, ripeto, palla contesa e il buon Sanchez decide di entrare in maniera, secondo me, al limite tra lo scellerato e il folle, insomma, contro l'avversario dopo un cartellino arancione ottenuto al 48esimo, 49esimo del primo tempo e lasciando l'Inter in dieci. Ora dico io, l'Inter ci stava provando, una giocata, un rimpallo, una roba, una botta di culo, oh, forse il risultato lo si andava almeno a pareggiare, poi i supplementari, insomma, ci abbracciamo forte, però no, questo succede quando uno non capisce il concetto di pressing ultra-offensivo, devi pressare, devi essere offensivo, ma non contro le gambe degli avversari, poi è normale che il giorno dopo i meme è amico, i campioni sono così, e che...